partita carica di tensione decisiva per le due squadre che sono al terzo ultimo posto a quota 30 con il rischio di retrocessione diretta e play out con le stesse percentuali con tanta paura di sbagliare tra termoli notaresca è finita con un nulla di fatto la cronaca subito al quarto shibia ci prova in aria giallorossa ma il suo tap in non è vincente risponde il termoli al decimo con il rientrante el wasi che nell'aria piccola si trova tra i piedi un ottimo pallone ma al momento del tiro si incarta e sfuma l'occasione ghiotta al sedicesimo gli ospiti vicinissimi al gol penetra un ottimo pallone in aria giallorossa per i piedi di romano il quale tira a botta sicura ma lombardo si supera e compie una parata che vale un gol ed evita così la capitolazione dei suoi al ventesimo ci riprova ancora el wasi per il termoli pallone invitantissimo ma la punta termolese al momento del tiro non riesce a calciare come voleva e il portiere ospite ringrazia e parla a terra ventiquattresimo corcione ci prova dalla distanza ma il portiere ospite attentissimo parla a terra senza problemi arriviamo al quarantatresimo però è ancora un super lombardo a salvare l'incolumilità della propria porta compiendo un altro miracolo sempre negando la gioia del gol al romano molto insidioso la ripresa vede partire i giallorossi con più convinzione al terzo corcione autore di un'ottima prestazione tira fuori ma non ci mette la forza necessaria per impensierire il portiere ospite al quinto con el wasi ancora lui colpisce bene di testa forse anche con la mano del portiere e la palla si stampa sulla traversa termoli quindi vicino al gol siamo adesso al ventinovesimo caiazza tira da fuori area siba il portiere ospite stava per commettere uno svarione ma lui stesso però rimedia in qualche modo e siamo adesso al quarantesimo della ripresa il termoli stava per compiere una bella frittata il notaresco mette un pallone verso l'aria giallorossa che sorprende un po i difensori del termoli lombardo il portiere che parte leggermente in ritardo cerca la deviazione al limite dell'aria con i pugni ma invece del pallone colpisce un avversario che stramazza al suolo con una ferita al volto inevitabile il cartellino rosso per il numero uno termolese e termoli che rimane in dieci con l'esordio di recchia il secondo portiere che prende il posto del balde che era da pochissimo entrato in campo al cinquantesimo al quinto minuto dei cinque di recupero il termoli che sfiora il colpaccio con un contropiede importante al momento di concludere però il giocatore giallorosso non ha avuto la forza per mettere la palla in rete finisce così con un'altra delusione per i tanti tifosi giallorossi ma anche per i tanti giunti da notaresco per il nuovo allenatore martino che fa bene ancora crederci sicuramente si aspettava un esordio migliore sulla panchina del termoli calcio grazie 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 grazie